C'è paura, se ci avviciniamo è ovvio che ci avviciniamo mentre la possibilità di trovarlo ma di qua non lo mettiamo. Manuel alzati! E cammina! Ok, l'avete trovata. Ma questo è il volo col drone e se quando c'è il volo, hanno trovato l'attività che c'è anche il carico, che è altissima la tua grafica. Emanuele è vestito di rosso, però anche sulla cacastra zona è arrivato, l'ha visto quelli che l'avete visto, ma con una visione, diciamo, altissima. Non c'è il 2 senza il 3, occhio! Allora, le scarpe date, il problema fondamentale qual è? Se tu non hai di dividere...